Ciao Fabio e ciao a tutti i nostri ascoltatori. In questa puntata di Border Nights io inizierò uno speciale dedicato all'agnosi. Offrirò una serie di spunti di riflessione critici sull'agnosi antica e anche su quella contemporanea, perché io penso che l'agnosi sia presente più che mai nella nostra epoca, dominata da una forte tendenza nichilistica e cercherò anche di abbozzare un inquadramento storico e spirituale dell'agnosi rifacendomi all'approccio esistenzialista di un grande interprete dell'agnosi. forse il più grande in assoluto. Mi riferisco ad Hans Jonas, che è stato un filosofo, allievo di Heidegger negli anni venti a Friburgo. Allora l'approccio di Hans Jonas sull'agnosi è molto interessante perché è stato il primo ad avanzare la tesi secondo cui l'agnosi non è tanto un fenomeno storico appartenente ad una determinata epoca, in questo caso l'epoca tardo-antica, quindi i secoli che vanno dal secondo al quinto dopo Cristo, ma l'agnosi secondo Jonas è stata l'essenza storico-spirituale dell'intera epoca tardo-antica. Quindi a ragione di logica non si dovrebbe parlare tanto di ignosi come fenomeno storico quanto di spirito ignostico. Io volevo anche fare un distinguo a questo proposito molto importante che spesso rimane marginale nelle speculazioni sull'agnosi. Intanto bisogna distinguere l'agnosi dall'agnosticismo. L'agnosi, come dicevamo prima, è un atteggiamento esistenziale che l'uomo ha sempre avuto nella sua storia, anzi possiamo dire che l'agnosi è connaturata alla natura umana. L'uomo si è sempre fatto degli interrogativi da quando è venuto al mondo, ha sempre abbozzato delle risposte, delle risposte che comprendevano anche la fuga dal mondo e la percezione di una dualità insanabile tra il sé e il mondo, tra Dio e il mondo. L'agnosticismo invece è un fenomeno per certi aspetti sincretistico che appartiene a varie tradizioni religiose, appartiene alla tradizione cristiana e fu infatti nel secondo e terzo secolo dopo Cristo interpretato come un'eresia, io direi anche ingiustamente, da parte dei padri della chiesa, come un'aberrazione dalla vera dottrina cristiana della grande chiesa che allora si stava imponendo in tutto l'impero, ma esiste anche un'ognosticismo di matrice pagana, un'ognosticismo di matrice ebraica, per esempio abbiamo l'ognosticismo dei mandei, i mandei sono una setta con dei forti elementi di tradizione ebraica, esiste anche un'ognosticismo zoroastriano che poi nel terzo secolo si è evoluto nel manicheismo, ossia nella dottrina di mani, ma anche lo stesso ermetismo quale ci viene trasmesso dal corpus ermeticum è una forma di gnosi egizia, quindi come si vede esistono tantissime forme storiche di gnosticismo, ma l'origine diciamo storica dell'ognosticismo non può essere fatta risalire a questa o a quell'altra tradizione, proprio perché come dicevamo prima si tratta essenzialmente di un atteggiamento esistenziale, anzi di un atteggiamento alternativo rispetto a quello trasmesso dalle dottrine religiose tradizionali. Allora qual è la caratteristica essenziale dell'ognosticismo? Sicuramente è il dualismo, il dualismo come dicevamo prima tra il proprio sé e il mondo da una parte e il dualismo tra Dio e il mondo. Questo dualismo fa percepire il mondo e il sé e Dio e il mondo come delle polarità insanabili, come delle polarità che non possono essere ricomposte, da qui ne deriva un atteggiamento di opposizione e di rifiuto del mondo. Il mondo è percepito dagli gnosticismo come essenzialmente negativo, malvagio e quindi irrecuperabile. Di conseguenza il mondo va lasciato a sé stesso, va abbandonato. Chi è colui che coltiva l'agnosi è colui che si fa estraneo al mondo e si fa invece conoscere dal proprio sé. Nel mondo non esiste alcuna salvezza possibile. E allora noi possiamo dire che il fenomeno gnostico sì ha assunto diciamo il suo apogeo durante l'età tardo antica, però se ci pensiamo bene quella gnostica è una logica che c'è anche oggi in molte forme secolarizzate. Oggi sono soprattutto diffuse delle forme direi degradate, dignosi, delle forme cioè in cui sparisce anche l'orizzonte metafisico e spirituale. C'è sempre la tendenza a considerare il mondo come tenebra, come prigione per il sé autentico. L'ognostico è colui che come nell'epoca tarda antica deve acquisire una consapevolezza superiore e deve appunto tornare allo stato primordiale, allo stato di purezza. Come tornare però a questo stato primordiale? Occorre innanzitutto spezzare i legami con il mondo che appunto è percepito è vissuto come una prigione. Occorre parlare, stare in ascolto della propria voce interiore, parlare al proprio sé più intimo e quindi risvegliare il proprio sé alla conoscenza della verità. Una verità che però non appartiene a questo mondo. di conseguenza che cosa ne deriva a questo punto? Ne deriva che il disprezzo per il mondo produce anche una fuga dal mondo. L'ognostico è colui che essenzialmente non è interessato a cambiare il mondo, a trasformare il presente. Il mondo può anche morire, può anche andare alla deriva perché all'ognostico interessa il suo superamento, interessa vivere in un altrove, in un orizzonte utopico dove lui vive costantemente in attesa del totalmente altro, cioè di un dio che non ha niente a che spartire con il mondo. Allora si capisce molto bene che l'atteggiamento gnostico è essenzialmente anticosmico. Che cos'è l'anticosmismo? L'anticosmismo è pensare che il mondo fisico, il cosmo, sia un luogo di perdizione, di corruzione, di alienazione per l'uomo e che da questa condizione di alienazione l'uomo possa uscirne soltanto uscendo egli stesso dal mondo, quindi facendosi alieno al mondo. Chiaramente è un atteggiamento molto radicale. Da questo atteggiamento anticosmico poi deriva anche un atteggiamento di disprezzo per la dimensione fisica, per la corporeità. La dimensione fisica noi lo sappiamo è una dimensione essenziale dell'essere umano. L'essere umano si realizza anzitutto nella sua dimensione fisica. Non è possibile trascenderla in questa dimensione spazio-temporale e tutti i grandi maestri ce lo hanno insegnato. Eppure per l'agnosi la condizione essenziale per risvegliare la coscienza primigenia e quindi accedere alla verità e proprio superare la dimensione fisica degradando il corpo. Un'altra caratteristica molto radicale e quindi anche molto discutibile dell'agnosi è la concezione che essi hanno della divinità. La divinità per i sistemi gnostici non è concepita come nel cristianesimo classico. Nel cristianesimo tradizionale, quello trasmesso dalle chiese, cattolica, ortodossa eccetera, Dio è essenzialmente una persona. Dio è invisibile ma si rende visibile anche attraverso la persona di Gesù Cristo. Per gli gnostici invece Dio è essenzialmente totalmente altro. C'è un'assoluta opposizione tra Dio e il mondo. Dio è trascendenza suprema, non ha nulla a che spartire con il mondo. Per esempio un grande maestro gnostico, Basilide, dava questa definizione di Dio molto bella ma anche molto inquietante. Basilide definiva Dio il non essere. Dio è non essere, non ha nulla a che fare con l'essere e quindi con il cosmo, con il corpo e anche con l'umanità perché per gli gnostici l'anima sì è creata da Dio ma scendendo nella dimensione fisica, nella dimensione cosmica si è degradata, si è corrotta e da qui deriva anche una figura molto negativa come quella del demiurgo. Il demiurgo che nel platonismo classico era tutto sommato una figura positiva perché il demiurgo in Platone, nei dialoghi di Platone era colui che aveva dato forma e aveva ordinato una materia che già esisteva. Quindi il demiurgo non era colui che aveva creato la materia per Platone ma era colui che lo aveva trasformata in un cosmo, cioè in un sistema ordinato. In greco antico la parola cosmos significa appunto ordine e quindi il demiurgo espletava una funzione essenziale, quella di dare forma ad un cosmo informe, mentre invece passando nelle dottrine gnostiche la figura del demiurgo e delle altre potenze assume una valenza negativa. Esiste quindi per gli gnostici un regno perfetto, anzi ad essere sinceri gli gnostici parlano di una pluralità di regni divini perfetti che si chiamano con il nome di pleroma. E cos'è il pleroma? Il pleroma significa pienezza, quindi pienezza della perfezione, della trascendenza, della bellezza, un po' come il mondo delle idee di Platone. Ma gli gnostici quindi ancora prima di Nicola Cusano e di Giordano Bruno avevano concepito la pluralità dell'universo, pluralità dell'universo fisico ma anche pluralità dei mondi divini che nulla hanno che spartire con gli universi fisici. Sempre a proposito di Giordano Bruno un'altra caratteristica che differenzia l'ognosticismo o gli gnosticismi da Giordano Bruno è che appunto mentre per gli gnostici Dio non ha nulla che spartire con il mondo, per Giordano Bruno Dio e il mondo sono essenzialmente la stessa cosa. Quindi a me fa un po' ridere quando alcuni autori un po' sproveduti associano Giordano Bruno all'agnosi, non è assolutamente così, Giordano Bruno parlava di anima mundi che si è incarnata nel mondo, ma quest'anima mundi è del mondo, Dio non è al di fuori del mondo per Giordano Bruno, Dio e il mondo coincidono, da cui deriva anche il cosiddetto pi cai cai n, cioè il cosiddetto tutto e uno che dà origine alla teoria del panteismo. D'accordo, io mi fermo qui perché altrimenti dovrei iniziare il discorso sulle potenze inferiori ma poi diventerebbe abbastanza lunga la riflessione. Spero di avervi dato delle riflessioni insomma così interessanti e ci sentiamo la prossima puntata e per la seconda parte dello speciale sull'agnosi. Ciao a tutti e buon proseguimento. Ciao Fabio!